salve amici di youtube benvenuti in questo nuovo video mi scuso se non sto caricando abbastanza video in questi giorni ma perché sono in ferie quindi c'è ancora fino all'1 marzo sono in ferie poi il 2 ritorno vi devo dire una cosa dal 22 all'1 sarò a madrid però siccome tanto so che non ci sono sempre molti commenti e comunque poche persone che guardano il video cioè il video lo guardano non è quello il problema più un fattore di commenti se ne vale la pena se io vi faccio vedere alcuni video delle di madrid o alcune foto di madrid ditevolo voi però comunque i commenti sono sempre 8 quindi alla fine lo farò se mi rispondete tutte 8 visto che gli altri non rispondono però il punto è questo perché vi iscrivete cioè non ha senso questo è tipo un chiarimento del mio canale se la persona si si iscriva al mio canale no e poi non guarda niente non ha senso che ti iscrivi c'è se non commenti nemmeno visto che tanto è quello il punto una persona io se c'è un canale che mi sono iscritto commento tipo la critica 009 io commento sempre l'ho appena conosciuto ma commento metto mi piace guardi il video ecco io faccio così invece c'è molta gente che si iscrive e non non guarda c'è allora inutile che ti iscrivi c'è li iscriviti direttamente c'è io piuttosto adesso vorrei averne 600 perché ogni volta che aumento più gente non commenta e questa cosa non va bene a parte alcuni messaggi tipo e wake up che mi arrivano tramite su ts e comunque non ci sono commenti e quindi questa cosa mi dà fastidio non è che mi da fastidio non è bello capito perché alla fine avere 600 iscritti avere soltanto 8 commenti e 170 visualizzazioni mi sembra un pochettino brutto la cosa ma poi non perché dovete per forza commentare è perché così almeno so chi mi segue e so anche chi vuole dare una mano tra virgolette e quindi da anche un suo commento qualcosa che magari sbaglio perché magari è qualcosa che non faccio più nei video magari è un video che molta gente piaceva e quindi c'erano più commenti e invece su quei video che sto facendo saranno forse belli non al massimo ma comunque non non come quelli che facevo un tempo quindi vorrei sapere da molte persone che non commentano più se è per quello e o è per un altro motivo cioè io spero che gli iscritti che sto seguendo anche io mi seguano tipo io sto seguendo anime manga ita sto seguendo e zolax sto seguendo tecno channel alcune volte se mi capita guardo un video quindi certo guardando alcuni canali quindi mi darebbe un po fastidio se altre persone invece che mi seguono non commentino perché un conto è guardare un video e guardarlo e basta un conto è guardarlo e poi tutto magari ma non commentare non mettere niente c'è un conto è se lo guardi e va a fa un culo non metti neanche un mi piace e te ne vai ma un conto invece se tu lo guardi e non metti niente ecco non non è carino sì lo so che molti non vogliono commentare non hanno voglia eccetera eccetera ma un mi piace un commento non mi sembra una cosa talmente pesante quindi cioè non lo so quindi vi chiedo una cosa se volete il roba di spagna madrid vi faccio un video o un delle foto dove ci sono io magari il mio zio magari quindi cioè non lo so dipende da voi poi parliamo invece di altri argomenti perché voglio chiarire alcuni punti che magari in questi giorni sono successi e vorrei essere veramente preciso io sono uno che quando dice determinate cose è perché si è informato quindi alcuni iscritti comunque di the king che mi avevano offeso a me se voi ci siete da poco su youtube perché tanto so che siete ragazzi di 14 o 16 anni che amate quel youtuber non venite ad offendere una persona se non sapete le cose io siccome c'ho tanti amici miei che sono sul ts di luke parlano con luke e io ho chiesto a queste persone se fa determinate cose voi non vi potete venire ad offendere se sapere le cose quindi mettiamo già i puntini luke ha 300.000 iscritti ok secondo voi uno che ha 300.000 iscritti non guadagna su youtube sarebbe stupido in teoria visto che lo fanno quelli che hanno 40.000 iscritti e non parliamo di alcune persone non voglio dire alcuni nomi lo fanno persone di 30.000 40.000 c'è anche una persona che nel ts di luke lo conoscete tutti guadagna su youtube quindi cioè a parte che se guadagna o meno in teoria da come ragiono io se io guadagno o meno dovrei essere uno di quelli che dice non me ne frega cioè non non dovrei dare retta a voi cioè se sono non devo dirvi se guadagno o meno cioè un mio è un mio problema cioè non c'è nulla di male infatti io se dovessi guadagnare su youtube lo direi nel video ce lo farei un video dove dico che guadagno così almeno la gente non viene di insultare money grabber queste cose qua sì potete chiamarmi money grabber quello che volete però tanto io adesso lavoro al ristorante quindi non guadagno niente su youtube perché guadagnerei 20 euro ma chi se ne frega poi se dovessi guadagnare su youtube sarei il primo a dirlo quindi non sono uno di quelli che nega l'evidenza e seconda cosa io mi ricordo che già luke aveva fatto un video dove diceva che guadagnava su youtube con la social blade adesso magari ha cambiato gestore però comunque quindi ragazzi anche se lui ha trovato un lavoro su quello che ho sentito dai miei amici l'altra settimana due mesi fa luke guadagna sia su youtube che sul lavoro certo mi hanno detto che non carica molti video ma quelli che carica comunque sono sempre questi quindi ragazzi prima di venire a dire che io non capisco un cazzo che sono uno che che non si deve permettere di offendere luke io non sto offendendo luke sto dicendo le cose come stanno non c'è luke guadagna appunto è inutile che voi volete non volete che vi smonti un idolo ragazzi non ho detto che uno stronzo ho detto che guadagna c'è una bella differenza luke sarà una brava persona sarà il primo youtuber che ha fatto minecraft sarà il primo che che parla bene eccetera eccetera non ho detto che lui è un falso ho detto solamente che lui guadagna quindi cioè non ho detto niente di male quindi prima di darmi dello stronzo e del pezzo di merda informatevi sulle cose poi che avete mi avete scritto che lui che io sono un pezzo di merda perché lui aiuta tutti ragazzi per cortesia a 300 mila iscritti come può aiutare ognuno dei 300 mila iscritti lui aiuta quelli che può aiutare quelli che gli danno qualcosa anche a lui certo non andrà aiutare a uno come tipo me tipo quindi non ha senso tipo quello che mi ha offeso diciamo mister tutto crack o non mi ricordo come si chiama quello tu a te non ti aiuterà mai nell'universo mai luke non ti aiuterà te lo dico già non aiuta a me figuriamoci a te quindi prima di venirmi ad offendere darmi della testa di cazzo del uno che non capisce una merda informati ok perché questa cosa mi dà fastidio a me la gente che si mette ad offendere sa sapere le cose tu avrai 14 anni sei appena entrato su youtube non parlare non dire niente perché tanto non sai nulla quindi è inutile che stai lì a parlare a parte che come ho già detto non c'entra l'età vabbè io ne ho 22 tu ne avrai 14 16 comunque non dovresti offendere in teoria una persona anche se è più grande o più piccola di te ma poi non dovresti scrivere commenti finchè non ti informi su una determinata cosa non ha senso quindi cioè io prima di dire quelle cose su quel determinato video che era successo tanto tempo fa che l'avevo caricato mi sono informato quindi non vado a sparare non vado a dire roba non vado a dire merda su una persona che non conosco e non mi sono informato cioè l'hanno detto tutti cioè l'ha anche confermato lui che guadagna perché sennò sarebbe una persona che non lo fa per soldi ma lo fa per iscritti ma non mi venite a dire che adesso lui lo fa per i suoi iscritti non venite a dirmelo perché una persona che guadagna 300 mila iscritti pensa più al guadagno che agli iscritti cioè se deve campare due figli o un figlio o una figlia non penso che vada a pensare più a voi o alla sua famiglia cioè sarebbe una cosa pazza in teoria quindi sia quella cosa che mi avete detto che lui pensa ai suoi iscritti che vuole bene i suoi iscritti questa tra virgolette non è proprio vero lui diciamo aiuta quelli che può aiutare quelli che hanno sui 5000 in su iscritti ma gente che ha 600 iscritti non li aiuterà mai perché non può farlo e soprattutto si vorrà bene i suoi iscritti chi è che non li vorrebbe gli iscritti cioè uno che dice cazzo questi qua mi danno 300 mila visualizzazioni li voglio bene perché mi danno mi danno soldi quindi ragazzi è quello che il look pensa cioè non venite a dimmi che il look una vostra visualizzazione adesso vi deve dare un bacio in bocca ecco quindi non non diciamo queste cose a meno perché sennò siamo arrivati a livelli proprio assurdi quindi ragazzi per il nuovo ripeto quando dico le cose io su una certa persona mi sono andato a informare ho parlato con 30 40 50 persone prima di andare a dire una cosa del genere quindi non venite a insultare soprattutto anche quando avete un youtuber che stimate non pensate che sia un eroe perché è una persona come tutti gli altri e metterla non negare l'evidenza ecco come si può dire negando l'evidenza non risolvi nulla cioè non inutile andare a dire luke non guadagna luke è una brava persona luke luke è una brava persona ok ma non andate a dire luke non guadagna su youtube luke aiuta tutti luke il migliore eccetera no luke aiuta quelli che può aiutare quelli che gli servono per andare anche lui avanti o guadagna su youtube per fa amare la famiglia visto che c'è una moglie o una fidanzata comunque una figlia se non mi ricordo quindi non mi venite a rompermi le palle dicendo che non guadagna è impossibile perché già con quello che guadagno io 900 euro al mese deve lavorare anche mia mamma quindi siamo siamo in tre in famiglia quindi tre quindi non venite a prendermi per il culo e poi riguardanti invece a quell'altra argomentazione che era già successa ma è tutto pace vabbè però comunque stessa cosa in quella anche argomento voi mi siete venuti ad offendere dicendo che io sono un falso che io sono qua che sono la prima di parlare anche in quella categoria non parlate state zitti meglio perché se non sapete le cose inutile che voi credete a una campana e non all'altra io prima di se io sento tipo youtube litiga con doesn't matter esempio io invece di andare a scrivere tipo io amo youtube vado dalle tassemente gli vado a scrivere se è un coglione no prima vado a vedere che cosa ha fatto lui e poi cosa ha fatto yotobi e se ha sbagliato yotobi anche se io lo stivo e tutte queste cose qua gli devo scrivere che ha sbagliato quindi voi inutile che andate se c'è un video con scritto bayon community versus the king ad esempio come è già successo è già successo non mettete i commenti hai ragione hai ragione tu hai ragione e tu perché quello vuol dire negare l'evidenza cioè no voi state negando e non ve ne frega un cazzo in teoria visto che non non vi siete manco andati a informare su dall'altra persona siete persone che come si può dire noi in sardegna li chiamiamo le pecore quelle che seguono il gregge quindi in pratica se uno dice the king hai ragione tutti quanti andate a scrivere hai ragione invece prima di andare a informare su anche dall'altra persona e questo è sbagliato su youtube secondo me perché io prima di andare a dire magari avrei sbagliato anche io ad esempio io e the king 85 ago litighiamo the king 85 ago ha ragione se io ho sbagliato non vado a continuare a dire no ho ragione io vado a dire ho sbagliato io e se i miei youtuber mi vengono a dire ben un community hai ragione e ho sbagliato vado a dire no ho sbagliato io cioè non ha senso continuare questo discorso e litigare per messe settimane per niente ecco tipo quello che è successo lui ha litigato con questo qua io gli ho scritto quel messaggio per sbaglio e abbiamo litigato quindi ragazzi se voi avesse saputo la storia come è andata veramente in teoria dovevate subito capire che la colpa non era mia e invece voi avete fatto un casino della madonna e vi siete andati e siete andati ad offendere a me che non c'entrava niente in questo discorso a parte alcuni messaggi vabbè che mi sono arrivati da lui che mi dicevano che era incazzato anche con me quel giorno ma non l'ho capita perché allora nel video ti sei messo a dire che hai incazzato con quello ma te la sei presa con me perché hai incazzato con lui vabbè quelli sono puntini sulle i però in ogni caso ve la siete presa con me perché voi seguite lui e allora lui ha ragione non è vero di solito ha sbagliato sempre lui in teoria perché l'ha detto anche un'altra persona nei commenti anche se quello lì sicuramente lo odia The King ma comunque l'ha scritto cioè se tu ti incazzi per ogni cosa che succede nel tuo canale cioè se uno ti va a scrivere messaggi offensivi e te la prendi con uno e poi ti metti nel prossimo video a scusarti con quella persona non va bene perché una persona quando si incazza con quella persona si incazza solo con quella non con tutti quelli che gli vanno a scrivere un messaggio questo è sbagliato infatti l'ha detto anche lui che è troppo impulsivo e non va bene in teoria perché se no poteva capitare anche a voi e allora voi potevate dire ma che cazzo non è giusto e invece siccome è successo a me allora voi potete venire ad offendere non va bene questo significa usare la... com'è che era quella frase giocare sulla pelle degli altri una cosa del genere comunque cioè quando succede a me va bene quando succede a voi invece no non va bene ve lo dico già di un'altra volta non va bene perché come vi ho già detto a me la mia famiglia mi ha insegnato sempre il rispetto se qualcuno proprio ti offende di prendertela con la persona interessata e non prendertela con gli altri che non c'entrano un cazzo ma soprattutto essere diretto e sincero io queste quattro ciò di cose di pro di contro magari è che se uno mi viene a dire determinate cose che so già divento un pare maloso quello sì è vero ma se io tipo so di essere una testa di cazzo e uno mi viene a scrivere se hai una testa di cazzo lo so perché cazzo me lo devi scrivere non ha senso quindi sono anche per maloso questo è vero abbastanza perché mio padre e mia madre erano per maloso vabbè non credo che sia una cosa di dna ma comunque comunque ve lo sto ripetendo non venite ad offendere le persone senza saperlo per i prossimi futuri diciamo informatevi sulle cose perché se no è un il video è uscito una merda in teoria il video è uscito un video interessante ma che voi lo rendete una merda il video perché non vi siete informati quindi è questo che volevo dire principalmente su quei chiarimenti che sono successi nel video precedente che aveva fatto era per chiarire anche questi punti quindi a parte perché così a me non mi rilasso un po' tra le ferie vi carico questo video e lo guardate e poi perché devo andare in Spagna quindi vi ho informato che andrò in Spagna il 22 fino all'1 e così mi dite voi avete 17, 18, 19, 20, 21, 26 giorni di tempo per rispondermi 5 giorni di tempo per rispondermi quindi ragazzi per questo video è tutto ho risolto spero di avervi chiarito alcuni punti perché sono fondamentali per chi fa YouTube perché vi dovete informare prima di parlare male degli altri e quindi niente ragazzi per questo video è tutto un saluto da Bayon Community ciao a tutti